Il difficile compito dei giornalisti ai giorni d'oggi, cronisti delle stragi moderne. Questo il tema centrale del seminario formativo dal titolo L'informazione al servizio della sicurezza, promosso dall'Ordine dei giornalisti della Campania alla storica Emeroteca Tucci, un dibattito all'insegna della sicurezza e dell'informazione che permetterà ai giornalisti registrati sulla piattaforma Sigef di ottenere 4 crediti formativi. L'attualità dei temi si lega perfettamente al nuovo scenario di sicurezza nazionale ed internazionale dopo gli ultimi tradici eventi terroristici di Parigi e del Medio Oriente. Un modo per analizzare la sinergia complessa fra gli organi di informazione e l'intelligenza nazionale. Un convegno per fornire ai giornalisti utili strumenti per non varcare la sottile linea fra informazione e segretezza, imparando a trattare i dati sensibili in modo da diventare validi collaboratori delle forze dell'Ordine. L'evento è stato realizzato anche grazie al sostegno del consigliere regionale della Campania Carmine De Pascale, che ascoltiamo ai nostri microfoni. Con l'evoluzione che c'è stata nel campo della comunicazione, l'informazione, tutto ciò che riguarda il mondo dell'informazione assume una particolare importanza ai fini della sicurezza. È cambiato il mondo, i sistemi di comunicazione, l'intelligenza ha assunto un ruolo fondamentale nel contrastare un nemico, che non è più un nemico classico, è un nemico che vive in mezzo a noi, che veste i nostri stessi abiti, che si formano nelle nostre scuole e nelle nostre università.